Lo strumento rigo musicale serve per creare e modificare pentagrammi oltre che a configurare le caratteristiche dei righi della nostra partitura. Come sempre andiamo sulla nostra tavolozza principale e clicchiamo sullo strumento rigo musicale. Come vedete alla sinistra di ogni rigo compariranno delle maniglie e qui in alto il menu rigo musicale. Iniziamo dal menu. Le prime tre voci servono per inserire o cancellare pentagrammi. Se non selezioniamo nulla il rigo verrà inserito sotto agli altri. Se selezioniamo un rigo quello nuovo sarà inserito sopra quello selezionato. Cancella righi, semplicemente eliminerà il rigo, cancella righi e riposiziona. Finale sposterà i righi rimasti verso la posizione del rigo in cima che è stato cancellato. Modifica attributi del rigo. Cliccando si aprirà una finestra per modificare gli attributi del rigo. La vedremo più avanti. Rispaziatura dei righi. Corregge la spaziatura verticale di tutti i righi nel documento. Aprendo la finestra possiamo modificare con una misura o in percentuale la dislocazione dei pentagrammi. Utilizzo dei righi possiamo specificare l'esatta posizione dei pentagrammi. Da questa finestra scegliendo un valore diverso possiamo anche vedere un'anteprima della spaziatura. Proviamo un esempio con il flauto 2. Scrivendo 4 cm anteprima vediamo la distanza nella partitura. Definisci gli stili del rigo. Serve per creare e modificare gli stili del nostro rigo. Si aprirà la finestra corrispondente. La vedremo più avanti in questa lezione. Con le altre voci applica lo stile azzerare gli stili. Possiamo decidere dove applicare o azzerare gli stili del rigo e decidere se mostrare i nomi degli stili sopra il pentagramma. Gruppi e parentesi serve per creare e modificare i gruppi di strumenti e le relative parentesi se necessarie. Queste due voci, imposta posizione predefinita dei nomi e posizione dei nomi, servono a modificare la posizione dei nomi di strumenti e gruppi. Nella categoria mostra scegliamo se visualizzare o no i nomi predefiniti dei righi e gruppi e se mostrare la spaziatura in centimetri o altre unità scelta durante il trascinamento dei righi. Infatti, come vediamo, se proviamo a spostare comparirà la misura in centimetri. Le ultime due opzioni nasconderanno o mostreranno i righi vuoti. Come vedete abbiamo tre tipi di maniglie. La maniglia relativa al rigo, questa è la maniglia relativa al gruppo e questa è la maniglia relativa al nome del rigo. Cliccando col tasto destro su questa maniglia si apre il menu contestuale con alcuni link veloci per la modifica dei righi. Doppio clic invece semplicemente seleziona tutto il rigo. Se invece facciamo clic destro su una battuta si apre il menu con dei linci per cambiare gli stili del rigo. Vediamo ora attributi del rigo. Possiamo fare doppio clic sulla battuta o sul nome del rigo scelto oppure dal menu rigo musicale modifica attributi del rigo. Con questa finestra possiamo configurare le caratteristiche del rigo e scegliere gli elementi musicali da visualizzare. Da questo menu attributi per il rigo possiamo visionare tutti i righi presenti nella nostra partitura. Nelle opzioni possiamo selezionare se nascondere i righi quando sono vuoti, interrompere le stanghette di verticale all'interno di gruppi, mostrare di default le pause di intero nelle battute vuote, forzare un rigo ad essere nascosto solo in partitura oppure solo in rigo parziale ed eventualmente chiudere lo spazio tra i due righi, ignora l'armatura in questo caso qualsiasi tonalità e cambio di tonalità verranno ignorati e finale scriverà sempre in do maggiore. Mostra alterazione, l'avevamo vista nella lezione sui livelli, permette di mostrare o nascondere le doppie alterazioni. La categoria elementi indipendenti ci permette di scollegare i righi selezionati dal resto della partitura, rendendo indipendenti l'armatura, le indicazioni di tempo e o la testa delle note, in quest'ultimo caso scegliendo un carattere differente. Aspetto ci consente di utilizzare una notazione alternativa, notazione slash, ritmica, nascosta, eccetera, e di scegliere se applicarla ad un livello solo o a tutti e quattro. Use le forme delle note, possiamo sostituire determinate note con altri simboli e forme. Ad esempio in questo caso possiamo dire di sostituire la breve con questo simbolo. Poi possiamo modificare la posizione del nome intero e abbreviato. In elementi da visualizzare sceglieremo gli elementi musicali che vogliamo mostrare o nascondere. Stili del rigo. Andiamo ancora sul menu rigo musicale, definisci gli stili di rigo. In questa finestra nella parte in alto vediamo una lista di tutti gli stili disponibili. Possiamo eventualmente crearne di nuovi o eliminarli. Per ogni stile possiamo modificare tutte le opzioni, l'aspetto e gli elementi da visualizzare o nascondere. Come vedete la parte sottostante è uguale alla finestra attributi del rigo. Andiamo adesso sulla nostra partitura e col tasto destro apriamo il menu contestuale con tutti questi stili. La prima voce definisce gli stili del rigo aprirà ancora la stessa finestra e poi applica lo stile a parte partiture oppure azzera gli stili per tornare allo stile principale. E qui abbiamo tutta la serie di stili. Semplicemente scegliendo quello desiderato questo apparirà in partitura e sopra il rigo se lo abbiamo selezionato dal menu apparirà una riga grigia e il nome dello stile. A titolo informativo vi faccio vedere qua gli esempi più importanti. Questa è la notazione slash, questa è la notazione ritmica, notazione nascosta su tutti i livelli, possiamo anche scegliere una notazione che sia nascosta solo per un determinato livello. Segni di ripetizione, questo è di una battuta, questo è su due battute. Poi abbiamo questi due righi, due righi con una linea sola. E qua in questo modo forziamo il rigo ad essere nascosto. Questa è la forma delle note, note senza gambo. Qui mostriamo solamente gli accordi e il testo cantato. Un'altra opzione per la testa delle note a forma di x e queste due opzioni, alfa note con lettera nome note e alfa note con il nome nota solfeggio, per mostrare appunto i nomi sulla testa delle note. Infine vediamo gli attributi del gruppo. Come sapete di solito si usa unire in gruppo determinati strumenti, i legni, gli ottoni, le percussioni, gli archi eccetera, sistemandoli all'interno di parentesi. Come vedete qua abbiamo una parentesi che racchiude il gruppo dei legni e un'altra parentesi che aggruppa i due flauti. Per aprire questa finestra facciamo doppio clic sulla maniglia di un gruppo se ce n'è uno, quindi in questo caso possiamo fare doppio clic qui, oppure se non abbiamo un gruppo e vogliamo crearne uno, dal rigo musicale gruppi a parentesi possiamo appunto aggiungere, modificare o rimuovere un gruppo. Entriamo nella finestra, in alto abbiamo la sua divisione in gruppi, gruppo 1, gruppo 7 e qua possiamo scegliere la regione delle misure, tutte le misure oppure dalla misura tot sino a. Qui possiamo eventualmente inserire un nome del gruppo intero e abbreviato. Le due opzioni più importanti sono queste, sopra il rigo e sotto il rigo. Queste due opzioni infatti definiscono quali strumenti faranno parte del gruppo. In questo caso abbiamo selezionato il gruppo dei flauti, quindi la nostra parentesi, il nostro gruppo, andrà da flauto 1 a flauto 2. Se scegliamo il gruppo 1, che è quello che raccolta tutti i legni, abbiamo appunto dal flauto 1 fino al clarinetto in si bemolle. Come sempre c'è l'opzione per nascondere i righi vuoti, nascondi normalmente solo se tutti i righi sono vuoti, oppure non nascondere mai, e poi possiamo decidere lo stile della stanghetta di battute. Nella parte inferiore scegliamo lo stile per la parentesi ed un eventuale aggiustamento delle stesse.